Lui, insieme a lui abbiamo scelto Toscana, iniziata dicendo con me che chiedevo a Prozella di trovare un allenatore giovane che avesse vinto qualcosa negli ultimi 4 anni, quindi io non conoscevo Toscana, lui sì, abbiamo scelto Toscana, poi insieme abbiamo costruito la squadra, partendo dai miei valori, c'erano le promesse che avevano fatto, di fare una squadra divertente, che avesse appellato il risultato, lo dovesse comunque farlo divertire la gente, perché il nostro primo obiettivo, come io ho visto, qualcuno se lo ricorderà, il nostro primo obiettivo era quello di dare la pernana ai pernati, quindi di portare la gente allo Stato, quello fortunatamente è stato raggiunto anche per effetto dei risultati. E' chiaro, io ringrazio Toscana, che è stato un colchiero esemplato, ringrazio tutto lo staff, ringrazio tutti i collaboratori che si sono adoperati, al di là che in questo video di una città, al di là del mondo.